Ok, allora, il mio talk sarà incentrato su blockchain e bitcoin. Scusami Daniele, il microfono è più vicino. Perfetto, iniziamo bene. Allora, chi sono? Sono il fondatore di un'azienda che si chiama Olo Media, che ha 20 anni di esperienza nel settore informatico ed è qui palernitana. Sono founder di una nuova società che si chiama SunsLab, che si occuperà di machine learning. E diciamo che fondamentalmente sono un appassionato di tecnologia. Ho 46 anni e utilizzo i computer da quando ne avevo 12. Sono stato nella mia azienda un po' ricoperto tutti i ruoli, dallo sviluppatore al tecnico, al sistemista, all'ingegneria d'offerta, responsabile della qualità e chi più ne metta. Ovviamente tutto questo quando si poteva fare. Ormai le professioni legate all'informatica necessitano di una professionalità e di una specializzazione che non può più essere che una persona faccia tutto ciò. Però me lo sono potuto permettere perché ho visto, dalla prestoria dell'informatica alla storia attuale. Mi piace un sacco condividere la mia conoscenza con i ragazzi, con le persone che hanno un'età inferiore alla mia, perché secondo me dalla sinergia tra la mia esperienza e quello che mi viene dall'apporto con i giovani si può fare tanta roba bella, soprattutto in una terra difficile come la nostra. Partecipo attivamente al Palermo PHP User Group, organizzo Startup Weekend, Google Developer Group, eccetera, eccetera. Gli Open Data, molto importanti a mio parere, vi invito a guardare tutti questi gruppi su internet e a partecipare attivamente. ultimo, non per importanza, sicuramente il Free Circle che ha organizzato oggi questo evento. Allora, l'anno scorso mi sono ritrovato alla fine di un talk di Stallman, se siete a un Linux dei sapete chi è Stallman, non c'è bisogno che io ve lo spieghi, e alla fine Stallman di ogni suo talk fa un'asta in cui offre un GNU a chi gli dà più soldi per sovvenzionare la fondazione del software libero. Io mi sono aggiudicato un GNU alla modica cifra di 70 euro, sì, un peluche a 70 euro, poi l'ho dovuto spiegare a mia moglie, una cosa del genere, e poi l'ho dovuto spiegare che il peluche non era per lei, ma era per me. Quindi è stata una storia molto triste, il fotoreport ufficiale era Adriano Bertolino. Quando sono andato a pagare questo GNU a Stallman, Stallman mi ha chiesto cash o bitcoin? E io lì, diciamo, sono rimasto perplesso, cash ovviamente ho detto, bitcoin non ce l'ho di sopra, così volevo dire. In realtà mi ero allontanato da parecchio tempo dal mondo dei bitcoin. Perché mi ero allontanato? Io ovviamente essendo un appassionato di tecnologia, sono un early adopter su diverse tecnologie, cioè mi piace provarle subito, vedere cosa sono, che possibilità mi danno, eccetera, eccetera. Esaurisco un argomento e passo avanti, così fanno la maggior parte degli informatici che si appassionano alle cose. E mi ero allontanato dal bitcoin tanti anni prima, perché avevo installato un software per minare bitcoin, per minare bitcoin significa cercare di produrre bitcoin con la potenza di calco del mio computer, solo che io avevo usato un portatile e quindi il mio computer semplicemente aveva una potenza scarsa, andava in overproduzione, si alluppava, per intenderci, e quindi il computer rallentava e ho detto vabbè, levo questa cosa. Invece di andare a installarlo da qualche parte me ne sono dimenticato. Probabilmente oggi sarei da qualche altra parte su un'isola a godermi l'estate, invece sono qui con voi. Quando Stallman mi ha messo questa pulce nell'orecchio, ho fatto, per citare Leopardi, uno studio matto e disperatissimo sui bitcoin. Cioè ho detto vabbè, allora può essere che c'è qualcosa in più rispetto a tutto quello che gira. Perché noi informatici purtroppo ogni tanto ci allontaniamo da dei mondi quando diventano troppo modaioli, perché ci dà fastidio sentire l'hype mediatico che incomincia a raccontarti per esempio che Telegram è usato dai terroristi o che bitcoin viene utilizzato per nel deep web comprare ragazze e renderle schiave. Quindi certe volte ti allontani proprio per non sentire le fesserie dei giornalisti o di chi più in quei casi incomincia a raccontare storie ma che non ha una conoscenza tecnica approfondita. E ho iniziato un viaggio, diciamo, di conoscenza verso bitcoin e blockchain che sono due argomenti collegati, le blockchain, come giustamente mi hanno corretto una volta, iniziando a vedere le diverse figure che operano in questo mondo. Io prima di dirvi che cos'è un bitcoin, come funziona un blockchain, vi interdurrò alle varie figure che in questo momento popolano internet e che danno un loro significato alla sfaccettatura che vedono di queste tecnologie. Allora io inizio con i traders. I traders sono, diciamo, quelli che nel mondo reale comprano e vendono azione, fanno trading online. Di solito si faceva con l'azionario, si fa ancora con l'azionario. Molti di noi hanno fatto trading online inizialmente, prima che scoppiasse la bolla negli Stati Uniti, scommettendo sul Nasdaq e in altre borse. In questo momento ci sono diverse persone che operano a fare trading sulle criptovalute, quindi non solo sul bitcoin, utilizzando dei siti internet che si chiamano exchange. Tu vai su un exchange, ti profili, ci sono diversi tipi di exchange, a quel punto puoi acquistare con le diverse valute criptovalute. Attenzione, il parallelismo tra borsa e exchange è solamente di tipo funzionale, cioè funzionano alla stessa maniera, ma dietro è un mondo completamente diverso, perché dietro le borse ci sono degli organismi di controllo più o meno validi, più o meno politizzati, più o meno quello che vogliamo, ma ci sono delle norme di legge. Qua siamo nella deregulation totale, quindi un exchange che fa borsa, diciamo come una borsa, lo fa ma non c'è nessuna sicurezza di età, è successo anche che qualche exchange ha chiuso baracca e burattini e si è preso tutti i soldini. Gli exchange sono stati chiusi in Cina un mese fa e ritenuti illegali. I stessi traders si dividono in due categorie, ci sono gli holders o i cassettisti, cioè coloro che aspettano che il bitcoin scende di valore per acquistarlo, perché sono convinti che sia l'oro del futuro, e invece gli speculatori che comprano e vendono, sfruttando le variazioni di mercato, come succede nella borsa. In realtà le filosofie sono diverse, perché gli holders credono che il bitcoin salirà all'infinito come valore, mentre i speculatori sono convinti che ancora la moneta flat, definiscono la moneta flat il dollaro, l'euro, perché hanno un andamento piatto di valore. Considerate che un bitcoin durante una settimana può avere un'oscillazione anche del 20%, quindi è assolutamente un valore che normalmente nelle borse collegate alle valute non si hanno mai. Un sito di riferimento è CoinMarketCap, dove c'è la capitalizzazione di queste criptovalute, dove si vedono le variazioni giornaliere, settimanali, se non ricordo male anche delle 24 ore, no, dei mensili delle varie criptovalute, viene indicato dove queste criptovalute sono giostrate, cioè quali sono gli exchange dove puoi acquistare e vendere, e ti dice anche quanti ne vengono scambiati durante il giorno. Attenzione a questi valori, non vuol dire che se vedete un più 1000% in un giorno, vuol dire che quella criptovaluta è un punto dove investire, perché se la capitalizzazione è bassa, la quantità scambiata vi potreste ritrovare con un mucchio di nulla nelle mani, avendolo pagato anche abbondantemente. Poi ci sono gli imprenditori, imprenditori, diciamo i nuovi imprenditori di questo settore. Ogni tanto, giornalmente, su internet ci sono delle ICO, le ICO sono Initial Coin Offer, per chi ne capisce un minimo di borsa sono le vecchie ICO americane, o le OPA italiane, cioè le offerte pubbliche di acquisto. Quando un'azienda decide di quotarsi in borsa, deve seguire tutta una regolamentazione della Consob, la Consob gli dice in Italia se può quotarsi, a quel punto c'è un'offerta pubblica di acquisto, cioè vanno sul mercato con una forbice, le mie azioni valgono da 10 euro a 40 euro, poi è il mercato che il primo giorno decide quanto vale quell'azione, e da lì in poi viene trattata sul mercato. Alla stessa stregua succede negli exchange, solo che c'è un piccolo problema. Io domani mi posso aprire un'azienda, la Coin Mondello, la Mondello Coin, battere moneta e dirgli che ho un'idea spettacolare, perché a Mondello si utilizzerà solamente questa moneta. Se voi credete in questo progetto, io batto valuta, raccolgo 10 milioni di euro, ma voi state credendo in me e nessuno vi sta dicendo che la mia idea sia buona. Così succede con le varie ICO. In quei casi ci sono delle ICO dove puoi vedere il management che c'è dentro, vedi l'idea progettuale, vedi tanta roba prima di andare a spendere. Le ICO in questo momento in Cina sono viste malamente, perché succede che un'azienda nuova fa una ICO e nel giro di 20 minuti si spostano milioni e milioni di euro. Quindi non si capisce che fine fanno. Attenzione pure qui. Poi ci sono i miners, i minatori, sono coloro che utilizzano potenza di calcolo per tenere su la blockchain e generare bitcoin. Ma lo vedremo successivamente. Poi ci sono i freelancer che vedono nell'utilizzo dei bitcoin tanta bella roba, perché non ci sono le banche come intermediario. Io posso scambiare bitcoin o altre criptovalute con ognuno di voi, semplicemente tramite il nostro dispositivo, non passando a nessuna banca. Posso fare, non pagando tasse, perché in questo momento a livello europeo, normativo, a livello italiano non c'è nulla. Neanche sulla tassazione dei bitcoin c'è qualcosa. Quindi siamo in un momento di buco normativo in cui non si è ben chiaro che cosa fare. Lo stesso Draghi prima ha detto no a me le criptovalute non interessano e successivamente ha detto no le criptovalute hanno un andamento interessante. Le stesse banche che prima hanno ostentato le blockchain in questo momento stanno investendo tantissimo nel settore fintech e quindi cercano di capire come sfruttarle a loro vantaggio. Ovviamente si favorisce il nomadismo digitale e un accumulo chiaro, quindi perché non hai più intermediari. Poi ci sono i filosofi, perché i filosofi parlano di una nuova internet che se ci pensate non è una cosa tanto... Ovviamente io quando parlo di filosofi parlo nel bene e nel male, nel senso che c'è chi fa filosofia e chi filosofeggia. Quindi sono due aspetti completamente differenti. Però è vero che è avere la possibilità di far muovere denaro senza che ci siano governi a controllare, che ci sia una internet decentralizzata, perché purtroppo diciamocelo chiaramente, ci sono 4-5 aziende che in questo momento dominano internet. Google, Facebook, Twitter, Microsoft, chi mi manca? Amazon e abbiamo concluso. YouPort non vale. Ok. Allora, e i malviventi? Sì, effettivamente c'è anche del marcio in Macedonia, in Danimarca. Allora, perché c'è del marcio? Perché ovviamente c'è una parte di web che noi non andiamo, che è il deep web, dove si può accedere e fare determinate cose. C'è la Corea del Nord che si dice continui a fare i suoi affari, nonostante l'embargo americano, utilizzando il bitcoin. c'è chi ha tentato di fare il pizzo 2.0 e notizia di qualche giorno fa ricattando i negozianti con un biglietto e richiedendo bitcoin. Ok. Dopo aver sentito tutti questi, io vi ricordo sempre che ero partito da aver sentito Stallman che diceva che il bitcoin era qualcosa di interessante, mi sono detto ma che cos'è sto bitcoin? Alla fine. E la risposta viene sempre dagli informatici. Gli informatici sono quelli che stanno sempre sotto, che lavorano dietro le quinte. La definizione è molto semplice, è una rappresentazione digitale di un valore decentralizzato, basata su rete peer-to-peer, su una blockchain, il cui trasferimento è basato sulla criptografia e le cui regole di emissione sono basate su un algoritmo open source. Quindi, è molto semplice, cioè noi trasferiamo valore, per fare questo utilizziamo una tecnologia peer-to-peer tramite blockchain e ora vedremo che cosa è la blockchain, anzi, prima vedremo che cosa è effettivamente il bitcoin, come è nato, basato su uno scambio utilizzando la criptografia. Non è niente di complicato se mastichiamo un po' di informatica. C'è un concetto rivoluzionario che è la blockchain, per quel che mi riguarda. Allora, com'è nato questo famoso bitcoin? Bitcoin è nato nel 2008 da Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto in realtà non si sa chi sia. molti dicono che sia uno pseudonimo, alcuni dicono che sia un pool di, un team di esperti che hanno creato questo, questa criptovaluta e questa blockchain. c'è anche un famoso imprenditore, Wright, che è intervistato da uno scrittore, ha detto di essere lui Satoshi Nakamoto, dicendo che Satoshi, che Nakamoto era uno studioso, filosofo giapponese, mentre Satoshi era il, significa cenere in giapponese e che la nuova economia nasceva dalle ceneri come la fenice. Poi ha detto anche però che Satoshi in giapponese è l'amico di Pikachu e la sua credibilità è andata un po' a farsi benedire. Un attimo, hai cinque minuti che se riesci a rispettare, cinque minuti, così tanto. Va bene, ok, allora, cinque minuti, va bene. La storia del bitcoin è molto semplice e veloce, diciamo che nel 2008 nasce, nel 2009 abbiamo la prima creazione di 50 bitcoin, nel 2009 abbiamo il primo cambio di dollari in bitcoin, famosa la data di maggio 2010 quando un programmatore riesce ad acquistare due pizze con 10.000 bitcoin, valore di allora 25 dollari, valore di ora 55 milioni di euro. Ha comprato delle pizze care, sono state le aggiunte che l'hanno fatta salire. Nel 2000, e il resto gli hanno dato. Ok, allora, la blockchain è una tecnologia per condivisione di dati costituita da un'architettura decentralizzata e basata su transazioni interne ad una rete in cui i partecipanti non sono tra loro necessariamente fidati. Cioè, come avviene lo scambio di blockchain? di bitcoin e di altre criptovalute. Utilizzando questa blockchain, A effettua una transazione verso B. Quando diverse transazioni sono racchiuse in un blocco, il blocco viene convalidato da una percentuale della rete, in maggior Italia, e a quel punto il blocco è registrato ed inserito nella blockchain e a questo punto B riceve la transazione di A. All'interno di ogni blocco c'è l'hash che poi vi verrà spiegato successivamente che cosa è per mantenere la catena. questa catena di blockchain è replicata su tutti gli utenti che la utilizzano. Quindi, chi utilizza la blockchain ha una copia totale di tutte le transazioni che sono avvenute dall'inizio ad oggi. Quindi, praticamente, se noi qua dentro tutti abbiamo una copia di un registro, se io voglio modificare il registro dovrei modificare la maggior parte dei registri qua dentro. Quindi, diciamo che se volessi se avessimo tutti un registro uguale nelle mani e volessi cambiare qualcosa dovrei cambiare tutti quelli che ci sono da questa parte più qualcuno di questi per avere la maggioranza. Cosa che è impossibile nella blockchain per questo la blockchain è sicura ed affidabile. Questi sono i numeri di questa settimana della blockchain sono stati i miners sono quelli che utilizzano la potenza di calcolo per tenere sulla blockchain e generare il bitcoin due minuti hanno generato 92 milioni di dollari il prezzo medio di un bitcoin è 5 mila dollari e vado avanti. Due start-up allora vi parlo di due siciliani Polline è una start-up siciliana che si è inventata una metodologia per mettere sulla blockchain le opere d'arte e quindi se tu scrivi una poesia come Vincenzo Virgilio scrive tante poesie e la vuoi rendere sicura la devi mettere tramite loro sulla blockchain utilizzi alternativi della blockchain puoi registrare tutto sulla blockchain c'è chi si è sposato nella blockchain un matrimonio puoi fare un risarcimento assicurativo puoi utilizzare il voto elettronico tanta roba si può fare sulla blockchain io vado veloce e vi dico solamente di questa persona l'ultima slide dovrebbe essere allora sulla sinistra diciamo in alto avete smastins.io che è il sito di un ragazzo palermitano sviluppatore swift e di blockchain di ethereum ethereum è una criptovaluta che permette di generare smart contracts cioè contratti che automaticamente si regolamentano a secondo di quello che succede nel mondo reale quindi se io stipolo un contratto con una persona ci mettiamo d'accordo in automatico le operazioni di questo contratto saranno eseguite direttamente perché noi l'abbiamo già decise una vera e propria rivoluzione quel ragazzo è il fondatore 22 anni si è presentato così a TechCrunch e ha detto candidamente che secondo lui entro 2-3 anni saranno avranno la possibilità di insediare il Visa che non è l'ultima delle società allora io vi ringrazio a questo punto dato che c'è il coffee break io prendo solamente un minuto allora io sono esterno all'associazione Free Circle l'ho vista nascere e vi devo dire che hanno fatto un lavoro mostruoso non solamente quelli che vedete a questo tavolo ma anche le persone che vedete qua in giro i banchetti qui in prima fila hanno fatto un lavoro che non si vedeva da anni qua a Palermo purtroppo hanno avuto la sfortuna di scontrarsi contro la burocrazia e quindi c'è stato questo piccolo inconveniente ma non sono sicuro ma non sono sicuro che si debbano essere loro a scusarsi io vi invito solo a fare un applauso dall'associazione grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti